Scoprire proprio le proprie potenzialità, la propria vocazione a fare il medico, a fare l'infermiere, a fare una delle tante professioni sanitarie che sono particolari rispetto a tutte le altre professioni perché richiedono una passione, una predisposizione anche mentale di cuore per poter esercitare queste professioni. Questo corso è molto importante perché permette a questi ragazzi di scoprire se dentro di sé c'è già questa potenzialità oppure scoprire anche di non averla, per cui scegliere altre strade e non perdere tempo magari tentando i test di medicina, se frequentando dei corsi magari a pagamento e poi scoprire dopo sei anni che non si è portati a fare il medico o a fare le altre professioni sanitarie.